Bentornati su Che Paura, sul canale Senti Boys Oggi siamo qui per la recensione di L'Estarade del Male Il nuovo film uscito su Netflix ieri Il nuovo film di Antonio Campos con un cast ricchissimo Allora, la trama qual è? Siamo in questa cittadina nell'Ohio Anche se effettivamente questo film ha vari luoghi dove si svolge la storia Diciamo che è le storie di varie persone che apparentemente non hanno niente in comune Ma alla fine si scopre che ci sono dei collegamenti tra queste persone Che porteranno a una persona in particolare che è protagonista Interpretata da Tom Holland, Arvin Russell Appunto tutti riguardanti fatti macabri e violenti Allora, a me il film è piaciuto È un film ben scritto, anche se dopo arriviamo a un altro punto Dove le varie storie tra i protagonisti Hanno effettivamente dei bei collegamenti Non dico che sono i collegamenti mega galattici Però hanno dei bei collegamenti interessanti e intelligenti Tutti con un minimo comune denominatore, tra virgolette Che è la religione Apparentemente scollegati tra di loro di DGB Vabbè, questo qua c'entra E dopo però alla fine Si ramifichano, si intersecano Tra di loro In maniera abbastanza interessante In un crescendo di tensione Ma soprattutto morte In questo film A me dispiace che non sia uscito al cinema Perché poteva uscire benissimo anche al cinema E avrebbe funzionato Perché comunque ha tante armi al suo arco Avevo un cast buono Con attori che ti invogliano a vedere il film Che ti portano al cinema La trama comunque è interessante È una trama che prende E poi comunque ecco È anche un film Molto violento Molto duro Con scene di sangue Di morte Un film che Quando c'è una scena di morte Uno sparo in fronte La telecamera rimane Sulla testa della persona Che viene sparata Invece delle classiche scene Che la telecamera si sposta Scene di sesso Scene di nudo Sangue a volontà Scene di violenza Anche abbastanza pesante Scene di mutilazioni Addirittura scene di esecuzioni Esecuzioni Mi viene in mente la prima scena Quella della crucifissione Molto molto forte come scena Basti pensare al dolore di una persona Quindi ecco È un film che mi dispiace Mi fa pensare che sia uscito Fosse uscito al cinema Ma avrebbe funzionato Comunque È un film che funziona Ma al cinema Ma avrebbe funzionato ugualmente Film che dura 2 ore 18 E nelle sue ore 18 Antonio Campos Che è regista Riesce a dare spazio A tutte le storie Per esempio La storia degli assassini Di Jason Clark E Riley Cooke Dei Anderson La storia del protagonista Dei Russell Tom Holland Padre e figlio Quindi anche Rifacimenti al passato La storia di Robert Pattinson Prylestone Kigardine La storia dello sceriffo Interpretata da Sebastian Sten Ovvero il personaggio Lee Di Bodecker Poi comunque avevamo un cast Anche di persone che vedi poco Ma comunque Che si fanno Che comunque Sono nomi Che ti suonano subito all'orecchio Come per esempio Mia Masikowska Che interpretava Helen Atton Anche non so Elicia Scanlon Che interpretava Lenora La sorellastra Di Di Arvin Russell Quindi In queste Due a 18 Antonio Campos Riesce a dare spazio A tutti Pompando Caricando E Anche spiegando La storia E perché fanno Tali cose Anche se Ci sono Interpretazioni E interpretazioni Ovvero In queste Due a 18 Ci sono Attori Che fanno Una grandissima Interpretazione E portano a casa Un ottimo lavoro Ne cito tre Tom Holland Robert Pattinson E Vince Casgard Sono I tre Che mi sono piaciuti di più Nella top 3 Ci sono questi tre Non vuol dire Che gli altri Hanno recitato male Ma proprio quelli Che recitano bene Il loro personaggio interessante E tutto ok Sono loro tre Hanno proprio Tutte le cose Al posto Personaggio interessante L'attore Recita bene E Conclusione del personaggio Bella Quindi Tutti e tre Questi sono gli attori Che mi sono piaciuti di più Poi Sono degli attori Che secondo me Il loro personaggio Erano interessanti Ma Potevano dare di più Ovvero I congi Anderson Ovvero Jason Clark E Riley Coug Riley Coug Che mi è piaciuta Molto 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 Di più L'ultima volta Che l'ho visto Ovvero In The Lodge La recensione Che ha trovato Sul canale Qui Sì Ma Secondo me Avevano Un potenziale Molto 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 Più grande Di quello che effettivamente Abbiamo visto In dei film Perché alla fine Sono dei personaggi Che hanno Loro alla fine Hanno due collegamenti Sia con Arvin Russell Che Con Il Poliziotto Però alla fine La loro storia Che erano loro Erano gli assassini Ok La loro storia è quella Non c'è un'altra Loro che fanno gli assassini Uccidono questo Poi basta Invece Non so Mi viene in mente Il protagonista Arvin Russell Ha la storia Del suo passato Del padre La storia Dopo c'ha La storia Con Robert Pattinson Il Predicatore Poi con i bulli A scuola C'è tante storie Loro erano quelle Le basta E anche loro Secondo me Potranno dare un po' di più Però comunque Fanno una buona Interpretazione Ma mi aspettiamo Un po' di più Quindi ecco Un cast Formidabile Comunque Che riesce A raccontare Bene Comunque E a reggere bene Una storia Dove Nessuno Fateci caso Nessuno Nesce bene Nessuno Perché Tra passato E presente Ognuno In questo film Ha fatto qualcosa di male Tutti Dal protagonista Tom Holland Che comunque Hanno scelto Hotel Campos Ha scelto L'attore perfetto Perché comunque Ha un viso angelico Tom Holland Sembra proprio Un bravo Ragazzo Questo film E questo film Dopo la fine Fa quello che fa Non voglio Spoilerare più di tanto Dai coniugi Anderson Dal Dal prete corrotto Dal Gente che fa Unicidi Appunto Gente che si suicida Anche Il padre Di Russell Willard Che ammazza Cane E poi Picchia La gente A Proprio Questa cosa Che ucciderla A mani nude Quindi Tutti In questo film Fanno qualcosa di male Il predicatore Non ne parliamo Gente che accetta Appunto Avance Perché non diciamo così Quindi Tutti fanno qualcosa di male In un film Appunto Pieno di morte Disperazione Anche Soprattutto Disperazione Perché se uno ci pensa Questo film qua Il personaggio di Armin Il protagonista Viene Devastato Gli muore la madre Gli muore il padre Gli muore il cane Gli muore la sorellastra Librati Cioè Infatti alla fine E Quindi Un film Non leggero Ecco Una cosa importante Non è un film leggero Cosa guardiamo Oggi Guardiamo La strada del male No Cioè Non è che ti devi preparare Però è un film Non corto 2 ore 18 Non veloce Perché ha una sua andatura Non è Mad Max Ma non doveva essere Come Mad Max Velocissimo Ha un suo racconto Anche perché comunque È un film Che ha tanti personaggi Che meritano E devono avere Una costruzione Quindi Appunto Il film è abbastanza lungo Non è Sprintosissimo Quindi ecco È un film Pino di morte E disperazione Cioè Quando finisci di vedere Stoffi Quando finisci di vedere Stoffi Mi sento sollevato Mi sento meglio Quindi ecco Quindi alla fine Tutte le strade Oltre a tutte le strade A portare a Tom Holland Portano a Tom Holland A Darwin e Russell Tutte le strade Portano in un'unica direzione Al male Perché in questo film Tutti i personaggi Alla fine Della fiera Alla fine Della loro storia Anche se inconsciamente Hanno fatto qualcosa Di Di male Non volendolo Tipo La sorellastra Lenora Di Russell Che si è fatta Mettere incinta Dal predicatore Lei Diciamo Era una ragazza brava Acqua e sapone Alla fine Tutte le strade Portano a male Il titolo originale È The Devil All the Time Cioè Il diavolo Tutte le volte Infatti anche qua Praticamente la stessa cosa Il diavolo C'era sempre Sto film qua Anche perché Come hai detto Il film Che è Molto Quasi Completamente Centrato Sulla Sulle credenze Religiose Sul culto E sulla religione E infatti In questo film Ci sono tante Scene Di Credenze Religiose Degli anni Sessanta Il fatto che Non so Ve ne dico alcune I giapponesi Mangiano I cadaveri Dei loro Dei loro Familiari Che non è vero Poi Anche Il fatto Dei ragni Che il signore Mi ha Liberato Dalle paure Che avevo Cioè Tante credenze Religiose In un film Che appunto Era incertato Su questo Che porta Alla fine Queste credenze Religiose Al male Quindi Ti viene in mente Che forse Queste credenze Religiose Non erano poi Così tanto A scopo Di bene Ecco E' un film Non per uno spettatore Occasionale Come detto Cosa guardo Su Netflix Guardo questo E' un film Che Se tu non lo vuoi vedere Fa fatica A prenderti Fa fatica A coinvolgerti Allora Io Volevo vedere Questo film qua Me l'ho scendato Anche sul calendario Volevo assolutamente Questo film qua Per cast E E trama E quindi Mi è piaciuto A me questo film Perché era molto Concentrato E molto Invoiata A vedere Però è un film Che Effettivamente Se Sei uno spettatore Occasionale O se vuoi vederlo così Fa molta fatica A prenderti Alla fine Il tuo voto Sarà negativo In più E' un film Che Causa Le tante storie Che doveva raccontare Era un po' Scollegato Nelle scene In alcune scene Soprattutto Nella parte centrale Un po' scollegato Perché Passi da questo Tipo Storia Di Harry Russell Ok Fa una cosa Va bene Lasciamolo da parte Passiamo a quest'altro Sebastiana Steny Lo sciarifo Fa una cosa Ok Lasciamolo da parte E il problema E che Lasciamolo da parte Tu La scena si fermava lì E non aveva un seguito Soprattutto Nel Nel Il fatto Della Corruzione Del Di Bodecker Lui Fa Vedi che Corrotto Vedi che Corrotto Nella scena Nella scena Nella scena Nella scena Dopo Uccide Quelli Per cui Che lo corrompono Quindi Non è che mi manca un pezzo In quel pezzo Dove non l'ho visto Chissà cosa è successo Quindi È un film Che aveva un cast Incredibile Ma Secondo me Forse Con qualche Personaggio In meno Impor Magari Mettevi Qualche Tipo Il Il Poliziotto Corrotto Magari Facevi Non prendevi Un attore Comunque Molto Molto Buono Come se Facevi Magari La togliere La sua storia Accenavi solo Il fatto Che era Corrotto E dopo Me lo mettevi Alla fine O alla fine Mi mettevi Qualcun altro Nella scena finale Per chi ha visto Il film Ha capito Invece Tanti attori Fanno in modo Che Il filo Narrativo Di tutte le storie Un po' Venga interrotto In più Film che è tratto Da un romanzo E quindi Se vogliamo La voce narrante Che c'è in questo film Qua Che in questo film C'è una voce narrante Ehm Utile Perché ti dà L'idea del libro Ma no Perché alla fine Ti racconta Quello che succede In alcune scene Ma non serve Più in tanto Perché lo capisci Cioè non è un film Non è tenet Questo film qua È abbastanza svelto È abbastanza Cioè Come intuizioni È abbastanza svelto Cioè ci arrivi A capire cosa succede Non serve La narrazione Sottofondo Fuori campo Ehm Quindi ecco Ti dà Di dare il libro Ma non serviva A spiegarmi le scene Ecco soprattutto A proposito Di Colo che ho detto prima Degli attori E degli intrecci narrativi Secondo me Si potevano fare Più intrecci narrativi Alla fine Alcuni intrecci narrativi Vengono fuori Alla fine E non sono tutti collegati Se avrebbe stato bello Come dicevo prima Tutti le cose Erano collegate Tra di loro Con magari appunto Me Tu dice Impossibile Ok Mi togli Il fatto dello sceriffo Mi fai Me la puoi anche togliere La storia dello sceriffo Puoi anche solo dimmi Che era la sua re Il fratello Di Della Conige Henderson E basta Magari alcune cose Non tagliavi Sfoltivi E mi facevi Intrecci narrativi Che tutti si collegavano Non so Magari Il predicatore Robert Pattinson Che Era in un'altra chiesa Magari nell'altra chiesa Aveva messo incinto Aveva messo incinta Qualcuna E quella qualcuna Non so Va a capire Era un personaggio Della storia Magari In quel caso Cambiava un attimo La storia Però Mi sarebbe piaciuto E questa è una cosa personale Mi sarebbe piaciuto Che tutte le storie Di questo film qua Si intrecciassero Magari Sfoltendo un po' Le varie storie Ecco Quindi Beh A me questo film è piaciuto Secondo me Si potrà fare un po' di più Ma comunque Stiamo parlando di un bel film Girato bene Scritto Nonostante tutto Girato bene Scritto bene Tutto bene Ok Tutti E questa è una cosa importante Tutti i personaggi Hanno una conclusione Ed è molto importante Perché avevi un gran cast Dovevi dare a tutti lo spazio E l'hai fatto E soprattutto Dovevi dare a tutti Una conclusione E l'hai fatto Nel modo migliore Quindi Il mio voto è 7 e mezzo Scrivete nei commenti Cosa ne pensate Di questo film Il vostro voto Pagina Facebook Profilo Instagram Profitteroll Iscrivetevi al canale Nel Insanity Boys Ci vediamo Ci vediamo nella prossima puntata Con i Insanity Boys Che vanno in tangenziale Non in trattore 3, 2, 1 Delete Vi got We got We got We got We got the power Come on We got We got We got We got the power Grazie a tutti.